Un collegamento tra il territorio e le scuole, perché una delle finalità dell'associazione è quella di far recuperare anche e soprattutto ai ragazzi l'identità territoriale. In particolare quest'anno i ragazzi durante le visite qui a Marechiaro sono venuti a contatto con quelli che sono gli antichi mestieri delle tradizioni del territorio e quindi della cultura popolare di questo territorio. L'associazione Borgo Marechiaro insieme con l'istituto comprensivo Cimarosa hanno premiato i lavori del progetto Marechiaro E. Dopo percorsi guidati per conoscere le origini e le tradizioni culturali e musicali del borgo, il mondo della pesca e le attività enogastronomiche, i ragazzi di quattro classi della scuola secondaria di primo grado hanno prodotto disegni, riflessioni e video allo scopo di rafforzare il legame con il territorio in cui vivono e studiano per continuare in futuro a valorizzare e preservare la memoria storica e l'ambiente. Il progetto serve proprio questo, a sviluppare questa identità dei ragazzi e il collegamento con il territorio e con la cultura e i valori adesso collegati.